Tenuta Cantagallo Eventi, un nome che dice tutto. A Francavilla Fontana e in provincia di Brindisi, una struttura elegante ed accogliente per ogni evento. Dai matrimoni ai compleanni, i diciottesimi, il battesimo, le cresime, ma anche feste di lauree e defile di moda. Ogni festa organizzata alla Tenuta Cantagallo è sempre una sorpresa. Alla Tenuta Cantagallo, la vostra festa sarà sempre e comunque un grande evento. Tenuta Cantagallo Eventi, a Francavilla Fontana sulla via per Carosino al chilometro 4. Per info, 0831 890919. Siamo con il professor Antonio Fornaro, storico delle tradizioni tarantine, grande conoscitore dei riti della Settimana Santa di Taranto. Questa mostra, i giovani e la Settimana Santa, in memoria del compianto Francesco Carlucci, è un invito a rivivere attraverso la storia, la storia tarantina, la documentazione tarantina, questi riti. Storia e tradizione e sentimento religioso in un mix che vuol dire tarantinità. Sì, e l'altro aspetto da sottolineare è che, contrariamente a quanto è accaduto in tutte le edizioni precedenti, questa volta è stata scelta come sede la biblioteca a Clavio, proprio per dare un duplice segnale. Il primo è questo, cioè nel luogo, nella culla della cultura tarantina e secondo, in un quartiere che è fuori dai due quartieri storici che animano la Settimana Santa, cioè la città antica e il borgo Umbertino. Una documentazione importante, certamente, attraverso i giornali non molto d'epoca, veramente, ma che comunque sono testimonianza dell'attaccamento dei tarantini a questi riti, attraverso i lavori interpretativi dei ragazzi, dei bambini, che è molto importante perché questi riti resteranno in piedi fino a quando noi avremo la forza e il coraggio di insegnare a questi bambini la nostra storia, la storia delle nostre origini, la storia delle nostre tradizioni.